Una volta che abbiamo costruito un efficace processo di valutazione che sia coerente rispetto ai risultati d'apprendimento attesi, che abbia scelto in modo appropriato il test migliore per osservare le prestazioni dello studente e abbia individuato criteri, indicatori e valori con cui effettivamente può andare a sintetizzare la valutazione, un elemento molto importante che non dobbiamo trascurare è quello del feedback, cioè il ritorno che arriva allo studente dopo il momento di valutazione. La qualità del feedback è un elemento chiave del processo di apprendimento. Lo è in modo fondamentale quando parliamo di valutazione formativa, cioè quella che avviene lungo il corso quotidianamente nell'ambito delle attività che avvengono in classe o intorno alla classe, ma è molto importante anche nelle fasi di valutazione sommativa alla fine del percorso nella quale io darò allo studente un ritorno su un livello di prestazione che è riuscito, effettivamente, ad esprimere rispetto ai risultati di apprendimento attesi. Il feedback, a secondo dei differenti contesti, può essere espresso individualmente al singolo studente, oppure a piccoli gruppi, o può essere anche un momento collettivo d'aula. Sarà il docente che, a secondo della fase e del percorso, deciderà, e delle risorse che ha e del contesto specifico, qual è la modalità migliore. L'importante è che il feedback sia sentito come un elemento chiave del processo su cui investire attenzione e risorse. Il fatto che la qualità del feedback sia fortemente connessa a quella che è la qualità dell'esperienza didattica nel suo complesso è dimostrato da numerosi studi. Già qualche decennio fa, Hattie aveva dimostrato che esiste una correlazione molto forte tra la qualità e la frequenza del feedback e i risultati degli studenti. Più di recente, Ramsden ha evidenziato come esista una correlazione fortissima tra la qualità e la frequenza del feedback e la qualità percepita del corso. In pratica, nei numerosi casi che lui ha analizzato, tutte le volte che un corso viene valutato negativamente dagli studenti, esiste anche una valutazione negativa, specifica, rispetto alla qualità del feedback e, viceversa, tutte le volte che un corso viene valutato positivamente, vediamo una valutazione positiva relativamente al feedback. Il tema del feedback sembrerebbe essere l'unico marker stabile, significativo, che individua con una probabilità molto alta un corso che viene percepito positivamente dagli studenti rispetto a un corso che viene percepito negativamente. Perché un feedback sia efficace? Però è necessario che abbia una serie di caratteristiche. In primo luogo deve essere frequente e tempestivo. Frequente perché deve accadere spesso nella dinamica di apprendimento e insegnamento che lo studente tenti o si impegni al meglio per realizzare una performance e che rispetto a questa ci sia un ritorno da parte del docente. Tempestivo, perché se io eseguo un esercizio, un problema, una presentazione, una qualunque forma di prestazione in un dato momento, avere il feedback molto spostato in là nel tempo non mi aiuta a comprendere se il mio processo d'apprendimento sta proseguendo nella direzione giusta, quindi frequente e tempestivo. Deve anche permettermi di comprendere in modo chiaro a che livello mi sto collocando rispetto alla prestazione che è attesa. Sono effettivamente al livello massimo atteso? Sono a un livello quantomeno accettabile? Se non sono a un livello accettabile, perché? Rispetto a questo perché, la spiegazione in più che servirebbe per completare un feedback di qualità è cosa posso fare per correggere il percorso d'apprendimento o per migliorarlo ulteriormente. Con queste tre caratteristiche io riesco effettivamente a costruire un feedback efficace, ma c'è un elemento che è ancora più qualitativo che è forse quello più importante, che è il fatto che il feedback dovrebbe anche sostenere di incoraggiare la fiducia in se stessi, non andando a sottolineare soltanto i difetti, i problemi, le cose errate, ma anche i punti di forza. Su questo una riflessione molto interessante è stata fatta a Stanford da Carol Dweck con il suo modello del Growing Mindset. Attraverso i suoi studi ha evidenziato come le situazioni didattiche nelle quali i docenti incoraggiano la creazione di un Growing Mindset, cioè di una prospettiva di possibilità di crescita e di sviluppo delle proprie abilità, conoscenze e competenze negli studenti, favoriscono effettivamente il raggiungimento di migliori risultati. Sembra una cosa che si possa intuire facilmente, perché è chiaro che nel momento in cui io apro in una persona la speranza di poter raggiungere risultati migliori, automaticamente lo metto in condizioni di mettere in gioco tutte le risorse che ha in quella direzione. Non è facile, però, tradurlo nella pratica efficace del feedback, perché spesso ci limitiamo a sottolineare tutto ciò che non ha funzionato, e non dedichiamo abbastanza attenzione invece a quella parte che riguarda proprio l'incoraggiamento, la messa in luce delle potenzialità positive che potrebbero aiutare i nostri studenti a entrare in una prospettiva positiva, per cui per adesso quella prestazione non è ancora quella attesa, ma potrà esserlo a fronte di una maggiore attenzione, impegno e investimento da parte loro. Non dimentichiamo, però, che nella pratica didattica si dice che il voto annulla il feedback. Spesso, nel momento in cui uno studente vede un voto, non dà più nessuna importanza al feedback, quindi al messaggio qualitativo che corrisponde a quel voto. Per questo motivo è particolarmente importante utilizzare il feedback lungo tutto il percorso di insegnamento e apprendimento, in particolare in tutti quei momenti di valutazione formativa nei quali il voto è sostanzialmente assente e quindi il feedback può restare bene a fuoco, può restare in primo piano e diventare un messaggio chiave per orientare i progressi dello studente. Un altro tema molto importante, soprattutto quando parliamo di classi grandi, è come si fa a creare un contesto per cui il fatto di dare feedback ricchi, frequenti e tempestivi sia sostenibile per il docente. Se ho 120 studenti, come faccio a dare loro frequenti feedback sostenibili? Uno strumento che ci può aiutare a rendere il feedback più sostenibile anche con le classi grandi è sicuramente quello della rubrica, che abbiamo già visto. Cioè nel momento in cui io costruisco per le varie prestazioni attese dello studente un sistema di criteri, di indicatori e di differenti livelli per ciascun indicatore, mi è più facile anche in presenza di una quantità elevata di elaborati da rivedere dare dei feedback ricchi, perché posso dare un feedback anche molto ricco ed articolato, dando chiare indicazioni allo studente sui suoi punti di forza e sui suoi punti di debolezza. Un altro strumento che può aiutarmi nella gestione di feedback ricchi ed articolati anche in una classe grande è quello dei clicker, cioè quegli strumenti online che mi permettono di creare test, quiz, problemi, esercizi, sottoporli allo studente attraverso il web e dare a ciascuno un feedback istantaneo e ben dettagliato. La maggior parte di questi strumenti infatti consente di inserire non solo gli esercizi proposti, ma anche dei feedback che corrispondono sia alle risposte giuste che a quelle errate e anche degli stimoli e delle indicazioni sui contenuti da ripassare, gli esercizi da svolgere o le attività da rafforzare per riuscire a rispondere in modo più adeguato a quelle specifiche richieste. Il feedback, abbiamo detto, è un elemento fondamentale nel percorso di insegnamento-apprendimento, perché sia efficace, però è molto importante che sia frequente, tempestivo, quindi connesso temporalmente al momento in cui avviene la prestazione, chiaro, quindi lo studente deve comprendere bene a che livello è arrivato rispetto alla prestazione attesa dal docente, utile a renderizzare il suo percorso formativo, ma soprattutto deve sostenere la motivazione dello studente, deve essere incoraggiante.